Avevo 19 anni quando il compleanno l'ho fatto in Russia. 80 anni dopo quel compleanno trascorso al fronte, Carlo Bonini di Traona, alpino e reduce di Russia, ai suoi 99 anni li ha festeggiati a casa sua con la famiglia, celebrato dal gruppo delle penne nere del paese e dall'amministrazione comunale. Alpino, classe 1922, Carlo Bonini è l'ultimo valtellinese ancora in vita tra i reduci del battaglion Morbegno. Con il pudore e la fatica di ricordare la tragedia e la miseria della guerra vissuta al fronte, due anni fa si era raccontato ai nostri microfoni. Sono tanti che sono più tornati. L'ho trascinato forse 8-10 giorni e la mattina mi fa... Vai a prendere un po' di acqua che io non posso più. Sono andato in Nesbio e quando sono ritornato era lungo disteso. All'epoca 19enne partì per il servizio militare in Piemonti e nel luglio del 1942 fu inviato sul fronte russo. Si salvò per un colpo di fortuna, niente altro, racconta dalla tragica battaglia di Barbarovka e affrontò il gelo e la disperazione della ritirata vedendo morire compagni e amici ma riuscendo, come dicono gli alpini, a tornare a Baita. Sono tanti momenti difficili contro l'attro, ma ho sembra vedere il polazio e andare avanti.